Ma bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video challenge Oggi siamo a tempo per fare una challenge come ho appena detto Ma faremo da dopo tanto tempo, cioè un anno, da quando avevo 20 iscritti Vi ricordate l'ospedale speciale con Nicola? Se non ve lo siete visto, andatelo a me Allora ragazzi, oggi faremo la bottle cup challenge da solo, senza nessuno Ma vi prometto che in questi giorni vi porterò un'ospedale speciale Perché non l'ho fatto nulla E niente ragazzi, fatemi andare a prendere la bottiglia e noi ci vediamo Ok ragazzi, ho dovuto cambiare la webcam, aspettate Che se no non vedete Aspetta Ok, così almeno potete vedere se ho fatto bottle cupola Se non vedete tranquilli, sposto la telecamera e ve lo faccio vedere se bottle cupola Ok, iniziamo con il primo tentativo Questa bottiglia va bene, è inizio di tinta E niente, iniziamo Tenevo la bottiglia grande inizio della piccola Ok, pregiamo Oh raga, 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 aspetta Raga Raga, non ci potete gridere Non ci posso gridere, raga Primo tentativo Primo tentativo Mamma mia Mamma mia Ok, un botto finto Ma mamma mia Cioè, ragazze, limitate da me Porca troppa Ok, iniziamo Facciamo un'altra volta Via Raga, di pochissimo Aspettate, guardate, ve lo faccio vedere E attendo Però raga, per mezzo secondo era messa bene, però non ci sono riuscito Ragazzi, terzo tentativo Ci saranno Datemi la vostra potenza Come ricordate di Jeffery Ok, se ce la faccio, ragazze Via Raga, dite voi Tre tentativi Due botto finto Ma io non ci posso gridere Ma che costo un'altra Beh, ma questa è tutta propria Tutta potenza Ok Se ce la faccio Sono qui O se non ce la faccio Madonna, raga Raga Non ve lo faccio vedere Perché Insomma, si è capito che è andato giù Ma insomma In pratica era Come dire C'era qua Ok Quale è il titolo tentativo Ok What up Ok Non ce l'ho fatta Quando non ce l'ho fatta Non ve lo faccio vedere Perché sarebbe Non ci credo, raga No, adesso sto Mendo la spada Prima avevo la fortuna Ora tende la Niente da fare Questo lo faccio per voi Appena ci riesco Non ce l'ho fatta Perché se l'ho fatta Sessanta E non ce l'ho fatta E non ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta La serie di divertere Ok 3 2 1 Sesso tentativo Via No Vabbè È caduta Quindi non ve la faccio vedere Ok Via Non ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta Questo lo dico a voi Senti come te dico a voi Non ce l'ho fatta Poi non lo so Appena lo faccio Lo dico a voi Se qualcuno sta per me Oppure siete un po' costanti Appassate la voce Niente Scusate se non lo faccio mai Oh Sì Guardate Pa 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 Ve lo faccio vedere Le cose perché Non posso girare la camera Che parla Ok 4 bot Via Via Madonna Era in su Ma come ho fatto a capire Mamma mia Mamma mia 5 bot Ma che sono Le dei bot Le dei bot Le dei bot Le dei bot Madonna Madonna Eccomi Ok Niente Niente Oh non riesco Cioè Stanno sette per mezzo Secondo Poi cade Ma io non ci posso Vedere Sì Yes Mamma mia Ecco qua Sesto bot Flipp ragazzi Sesto bot Flipp Voglio fare la storia Questo è il sesto Perché sono arrivati a 60 iscritti Ora Ora Il settimo Però Torniamo di dare 70 iscritti Quando si parla di iscritti ragazzi Quando si parla di iscritti Non si sbaglia mai ragazzi Quando si parla di iscritti Mamma mia Mamma mia Sesto bot Mamma mia Mamma mia Ok ragazzi ci sono Possiamo andare Quasi 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 Ok Era dritta Giusto Veramente Questa leggema non è vero Perché non ve l'ho fatta vedere Però non teniamo poi Sono giusto Via Questa è andata Un'altra Non ce la faccio proprio Non ce la faccio Non ce la faccio Non ci credo Raga Ma com'è Dai Ho preso La scesa Ma io non ce la posso vedere Ah Sì Sì Stavolta ve lo faccio vedere Se no non ci credete Eccola qua Ora ci credete Meno male Ecco qua Niente Ce l'ho quasi Questo lo dedico A Raga Sentetemi qualcosa A qualcuno Fai un botto Guarda Aspetta Eccola Se vedete A qualcuno Un botto Lo fai Per forza Quindi se io Devo dedicare Sto botto Che fa il divano No Al divano Non funziona Se proprio Devo dedicarlo Alla borsa Per mamma Raga Nuovo metodo Per fare Il botto Sempre Dedicare Il botto A qualcosa Sto botto 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 Non è vero Questo è fin po' Questo è scritto Delica Non è Sto botto Delica Non funziona Sempre C'è A volte Ok Qua E' una vera Delica Alla mia Sto botto Guardate Un po' La faccio Durare Dicino Ragazzi Un po' Lunga Perché E' Bello Anche Quello Un po' Di bello Ah Perché Non ho dedicato Qualcosa Allora Questo Lo dedico A mia nonna E mia nonna Falsa Dedica A Zio Beh Ammissi Oh Falsa Non è Bene Non l'ho dedicato Non l'ho dedicato Sono coglione Lo sapete Ma perché No Al prossimo Che faccio Non l'ho dedicato Questo Questo Si è dedicato A Zio Paolo A Mio zio È morto Ok Questo Ne ho dedicato A Zio Paolo Ragazzi Ultimo Botto Se ci riesco Questo Lo dedico Tutto I miei Scriviti Tutto Amici Amici E amici Se ci riesco Ragazzi Questo Lo dedico A tutti Iscritti Amici Famiglia E niente Ragazzi Questo Botto Super È finito Qua E noi Ci vediamo In un prossimo Video E anche In un prossimo Botto Io Davano 010 E la battiglia Vi salutiamo Bella